Allora, nell'ultimo video avete visto che mi è arrivato un i5-12400, un processore a 6 core 12 thread, 18 MB di cache, architettura Alder Lake, un processore che ha soltanto 6 core di performance, quindi non è assolutamente il top di gamma della serie i5, ma mi è anche venuto un dubbio. Non è che forse fa da bottleneck a una RTX 3080 Ti? Stanchi di questa scritta? Hookies è il sito al quale rivolgervi per l'acquisto di videogiochi, software e soprattutto chiavi di attivazione per Windows 10, upgradabili gratuitamente a Windows 11. Vi basterà soltanto cercare il prodotto da voi desiderato e, al momento dell'acquisto, inserire il codice sconto WKPG per avere un ottimo sconto su un prezzo già abbastanza conveniente. Dopodiché vi basterà scegliere il vostro metodo di pagamento preferito e notare come l'ordine si è stato processato in tempi davvero brevissimi. Per attivare Windows vi basterà digitare attivazione nella barra di ricerca e seguire tutti i passaggi. Hookies. Chi meglio di loro? Il bello di avere un canale tech e di avere queste idee stravaganti è che se trovi qualcuno che la pensa come te e che vuole fare qualche esperimento, riesce a supportarti. Per cui grazie mille agli amici di ImproSystem per aver mandato la scheda video, per aver mandato il processore, per aver mandato la scheda madre, la RAM, i link... Oh mio Dio, stava cadendo lo scatolo. Tutti i link al loro shop sono comunque in descrizione. Cosa è successo? Raga, io ho preso l'i5, l'ho montato sulla B660 Mortal Wi-Fi DDR4, sempre di MSI, ho attaccato il dissipatore stock e l'ho lasciato andare. C'è da dire che io non provavo un sistema Intel ormai da un casino di tempo. Parliamo del 2018, inizio 2018, quando acquistai per la prima volta un processore AMD e quindi poi mi buttai a capofitto nel mondo di Ryzen. Ma tornare a una piattaforma Intel mi ha decisamente riaperto gli occhi e l'esperimento di oggi è stato voluto perché la piattaforma Alder Lake ha delle prestazioni decisamente fantastiche. Ma prima di andare a vedere se questo i5, ripeto, un 12400, quindi nulla di troppo speciale, faccia da bottleneck, ha una 3080 Ti, quindi una vera e propria top di gamma nel mondo del gaming, dobbiamo un attimo andare a capire di cosa si parla quando menzioniamo il termine bottleneck. Il bottleneck, tradotto la lettera collo di bottiglia, si ha quando un componente non riesce a stare al passo con le prestazioni di un altro componente e quindi crea un rallentamento totale di tutto il sistema. In gaming, se una scheda video estremamente potente come appunto una 3080 Ti viene utilizzata a risoluzioni basse, potrebbe avvenire che non riesca ad esprimere il suo potenziale al 100% se il processore non è abbastanza veloce da dare le istruzioni in tempo. Che cosa significa? La scheda video si occupa di renderizzare frame per frame il vostro videogioco. Se il processore non dà le istruzioni in maniera veloce o comunque in tempo, può darsi che la scheda video rimanga in pending time, aspettando appunto le istruzioni del processore. Al contrario, a risoluzione alta, dato che il massimo carico di lavoro non sarà sulla CPU, ma sarà sulla scheda video, non si parla lì di bottleneck perché si va a esprimere il massimo potenziale della scheda video. Quindi diciamo si arriva appunto alla massima espressione di potenza del componente. Ho provato questo processore in 5 test diversi. Innanzitutto il test di Cinebench per vedere con numeri nudi e crudi quali siano le performance di questo processore. E c'è da dire che questo processore, sebbene sia solo un 6-core 12-thread, fa davvero una figura fantastica, sia in single-core che in multi-core. L'ho voluto provare poi in tre giochi diversi, diciamo uno scenario semplice, diciamo normale, uno scenario impegnativo e uno scenario che io definisco fondamentalmente infernale. Innanzitutto l'ho provato su Rocket League, che è un gioco estremamente competitivo. L'ho provato in 1080p, settaggi estremamente bassi e vediamo che l'utilizzo del processore non arriva mai al 100%. Quindi significa che il processore riesce a spingere tranquillamente la scheda video senza mai andare a utilizzare il 100% della propria potenza computazionale. Quindi test di Rocket League superato. L'ho provato poi su Fortnite. Fortnite ha da poco, se non erro, ricevuto un cambio di engine, quindi ha ancora degli spigoli da limare, è un battle royale, quindi deve in continuazione caricare aree di mappa, fare cose, renderizzare il tutto, eccetera, eccetera. L'utilizzo del processore sale di più rispetto a Rocket League. Se non sbaglio siamo intorno al 50%, comunque, ma state vedendo i dati a schermo. Ma in quel caso non si raggiunge mai una saturazione totale del processore. Arriva poi lo scenario brutto. Ma quello veramente brutto, raga. Cyberpunk. Cyberpunk, vuoi per il motore grafico, vuoi per la poca ottimizzazione, è un macigno su il processore e sulla scheda video. Ad ogni modo, il processore in 1080p, dettagli bassi, preset basso, non soffre assolutamente di bottleneck acuto, potremmo dire. Non raggiunge mai il 100% di utilizzo e riesce tranquillamente a far esprimere alla scheda video ciò che la scheda video può esprimere. Il problema, in quel caso, non è assolutamente l'hardware utilizzato, perché come potete vedere, sia in 1080p, dettagli bassi, sia in 1080p ultra, e con il ray tracing, l'utilizzo del processore, bene o male, è quello. Quindi significa che Cyberpunk è tuttora rinominabile Cyberbug. Ah, vabbè, dopo un anno ci sta che il gioco sia ancora incompleto. L'ultimo test che ho provato è uno scenario decisamente poco favorevole alle prestazioni della CPU, perché ho provato 3DMark Time Spy. E fermi, io già so cosa state per dire, ma G, 3DMark è un software grafico? Lo so, lo so. Dato che tutta la build è stata lasciata lì a fare vari giri di benchmark, il tutto ha avuto il tempo di riscaldarsi per bene. Nella scheda video, una 3080 Ti Supreme Mix, sebbene abbia un ottimo fattore di dissipazione, con le ventole al 50% circa, è riuscita a raggiungere 73 gradi, riscaldando per bene l'aria all'interno del case, e andando a influenzare, ovviamente, anche le temperature del processore e del dissipatore stock. Ad ogni modo, il punteggio della CPU è di tutto rispetto, perché 3DMark ha sia la parte grafica, sia la parte riguardante la CPU. E non c'è che dire. Questo i5-12400 è il processore, forse con il miglior rapporto qualità-prezzo che io abbia mai visto. Diciamo che, se volete assemblare un PC in cui mettere il processore, mettere il dissipatore stock, e magari aumentare i giri del dissipatore, perché, raga, per raggiungere queste temperature, io ho dovuto mettere la ventola del dissipatore al 100%, che comunque, essendo una ventolina piccola, non è che faccia molto rumore. C'è però da considerare questa cosa. È un processore che vi permette, bene o male, di fare tutto. Magari, magari, con un dissipatore fatto apposta, anche un dissipatore ad aria, che costa 30, 40, 50 euro, riuscite tranquillamente a liberare le performance di questo processore, perché il tutto è anche limitato dal BIOS. Attenzione. Al primo accesso vi viene chiesto, il processore ha un dissipatore boxed, cioè quello che esce dalla scatola, un tower o un dissipatore al liquido. Ovviamente, se mettete come opzione dissipatore boxed, il BIOS andrà a limitare le performance del processore di conseguenza. Ma, sebbene siano state limitate via software, io penso che nessuno possa lamentarsi di come la scheda video sia sfruttata, e di come l'esperienza di gioco possa risultare da questa combo. Ovviamente, una persona sana di mente non dovrebbe accoppiare un processore medio di gamma con una scheda video top di gamma, perché una 3080 Ti è sprecata per giocare in Full HD con questo processore. Se la volete sfruttare per lavori di grafica o altre cose, ovviamente è bene accoppiarla con un processore top di gamma. Molto molto semplice, scheda video top di gamma, processore top di gamma. Potete anche fare processore top di gamma e scheda video medio di gamma, ma il contrario a volte potrebbe risultare davvero un problema. Ma vi ripeto, se volete, potete benissimo mettere un 6 core 12 thread in accoppiata con una 3080 Ti e non avrete bottleneck. Certo, un 12600K è più potente, un 12500, un 12600 normale è più potente, ma qui, intorno, con un costo di circa 200 euro, avete una CPU a 6 core in grado di farvi giocare. Quindi, se non fa bottleneck a una 3080 Ti, non fa bottleneck a una 3080, una 3070, una 2080, una 2080 Ti, potete giocare con tutte le schede video uscite finora. Potenzialmente potete giocare anche con le schede video future, perché se, voglio dire, le prestazioni sono queste in Full HD con una 3080 Ti, io sono convinto che con un eventuale 4070 riuscire tranquillamente a giocare. E questa cosa vale anche per AMD. Con una 6800 XT non dovreste avere problemi con questo processore. Con una 6900 XT anche lì non dovreste avere problemi con questo processore. Per cui sono decisamente impressionato dalle performance di questo 12400. Se volete creare un computer budget dal punto di vista del costo, ma ad alte prestazioni, questa è la CPU che vi consiglio. Perché questa? Perché AMD non ha una controparte in grado di battere le performance di questo processore, sia dal punto di vista delle prestazioni vere e proprie, sia dal punto di vista del costo. Perché? Perché al momento in cui registro il video, il Ryzen 5 5600 X, controparte diretta di AMD, costa 281 euro. I5 12400, 229. Questo su Amazon, quindi store al quale facciamo tutti riferimento. Su Impro System, se dite che vi manda il punto DG, potreste avere un trattamento di favore. Soprattutto per il 12400F, che costa 20 euro in meno rispetto al 12400, se avete già una scheda video. È un processore che supporta DDR4 e DDR5, io consiglio di accoppiarlo con le DDR4 per mantenere i costi bassi, ma fondamentalmente sono rimasto estremamente contento dalle performance di questo processore. Fatemi sapere la vostra, io vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto DG, e nulla, ci vediamo un prossimo video, sempre qui sul punto DG, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli! Ciao ciao!